Buongiorno a tutti, sono Gabriel D'Alonzo, finalmente è iniziata questa splendida maratona i 17 pianisti, grazie a Christian The Lord, molto apprezzato, mi è piaciuto molto il suo concerto. Spero di fare altrettanto, vi suonerò 5 brani che fanno parte del mio primo album, Introspective e alcuni brani di Metamorphosis che è uscito dello scorso anno con l'etichetta RNC Music. Vi faccio ascoltare il primo brano che apre appunto l'album Introspective, Waterfall of Tears. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.